Giovanni, è una emozione quella che stai vivendo? Assolutamente sì, perché comunque non mi aspettavo di essere premiato così. Vogliamo ricordare ai nostri telespettatori perché sei stato premiato? Sono stato premiato per quello che ho fatto dopo e nella strage di Cutro, mentre in quei giorni critici diciamo. E che cosa hai fatto? Abbiamo, col gruppo di Sottosopra, che è il gruppo a cui partecipo, abbiamo manifestato e abbiamo comunque partecipato a vari anche workshop online, in cui proprio con gli esperti parlavamo di quello che era successo. Quello che è successo lo portiamo nel cuore? Sì, assolutamente. Che cosa hai scritto, che cosa hai detto, qual è stato il tuo pensiero? Io penso che comunque ci sono state delle vittime che venivano in Italia solo per salvarsi, ecco. Quindi mi è dispiaciuto molto. Bisogna stare attenti e soprattutto avere rispetto di queste persone che arrivano con i viaggi della speranza? Assolutamente sì, perché sono persone più, penso, più sfortunate di noi. Quindi è giusto accoglierle nel miglior modo possibile. Tra gli alfieri della Repubblica tu sei il più piccolo? No, ce ne sono anche di più piccoli. C'è un bambino che ha otto anni e ha salvato il padre, per questo è stato nominato alfieri della Repubblica, sì. Ti piace essere solidale e fare questo volontariato che viene dalla voglia di aiutare il prossimo? Sì, mi piace. Oltre a piacermi è anche un dovere, diciamo. Cioè mi sento in dovere di farlo. Vuoi lanciare un messaggio ai nostri telespettatori su quello che hai fatto e soprattutto su quello che ognuno di noi deve fare? Invito tutti quanti ad aiutare queste persone più sfortunate di noi, ma non solo loro, perché comunque sono persone che hanno bisogno di aiuto e hanno bisogno di sostegno e di accoglienza.